La consapevolezza di avere una bocca sana è fondamentale per il nostro benessere. Dal 2010 ad oggi, in Dental Family ci siamo presi cura della salute di oltre 10.500 sorrisi. I nostri 10 odontoiatri lavorano in sinergia tra loro per offrire le cure più adeguate ad ogni singolo caso, dal semplice consiglio per la salute dei denti, fino ai trattamenti più avanzati. Ogni mese la fiducia dei nostri pazienti cresce. Vieni a conoscerci anche tu, chiama e fissa la tua prima visita. Grazie a tutti.